Un trentenne algerino recluso nel carcere di Villa Fastigi è evaso questa mattina alle 11.30 approfittando di una visita fisioterapica riabilitativa nella struttura sanitaria di Viare di Puglia all'ingresso del Parco della Pace. Immediata è stata la caccia all'uomo che si è concretizzata in un inseguimento con cattura avvenuta nella vicina via Lucio Accio poco dopo mezzogiorno. Qui sono convogliati in forze carabinieri, agenti di polizia e polizia penitenziaria dopo la segnalazione di un agente fuori servizio che ha seguito la fuga del detenuto comprendendo dove si fosse nascosto. Ovvero in una rimessa per attrezzi agricoli retrostante una palazzina di via Lucio Accio di fronte al campo da basket del quartiere. Sul detenuto in questione pende una pena di reclusione fino al 2029 per i reati di tentato omicidio e violenza sessuale commessi a Milano. Un inseguimento da film conclusosi in poco più di mezz'ora che ha creato scompiglio e incredulità fra i residenti affacciatisi alla finestra per capire cosa stesse accadendo a pochi metri dal proprio domicilio. Valentina e Giovanni sono i residenti proprietari della rimessa per attrezzi utilizzata per l'orto dove l'evaso si è rifugiato. Un evaso che non è stato visto intrufolarsi dai residenti i quali hanno invece visto rovesciarsi nella propria proprietà una decina di poliziotti e carabinieri. Ho sentito un gran casino, eravamo la porta chiusa, siamo usciti e ci ha buttato dentro, ha detto tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro e siamo rientrati. No, ho sentito la sirena, ho sentito la sirena, sono uscita, andavo a vedere sulla strada se era qualcuno che si sentiva male. Poi vedo tutta la polizia qui, sono uscita fuori e chi ci sarà là dentro. L'evaso sarebbe scappato saltando dalla finestra posizionata nel piano terra della struttura sanitaria e da lì poco più di mezzo chilometro di fuga. Alla vista degli agenti non ha opposto resistenza, è stato riportato in carcere e domani sarà processato per direttissima.